Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! L'attore Alain Delon ha lasciato precise indicazioni per la sua sepoltura, pianificando nei dettagli il suo ultimo riposo. Dopo aver dichiarato di non aspettare più nulla e di desiderare la morte, Delon è deceduto all'età di 88 anni, il 18 agosto 2024. Sarà sepolto nella cappella che aveva fatto costruire nel giardino della sua casa a Dushi, insieme ai suoi 30 cani, definiti da lui stessi come fratelli e sorelle. La prefettura ha già autorizzato la sepoltura e ha vietato il sorvolo sopra la villa fino a mercoledì sera. Delon ha espresso il desiderio di non avere funerali solenni, ma i suoi figli potrebbero organizzare una cerimonia privata nei prossimi giorni, seguita da un evento pubblico per permettere ai fan di salutarlo per l'ultima volta. La dimora di Delon, immersa nella foresta di Loire, garantirà al grande attore la pace che ha sempre cercato, soprattutto negli ultimi anni. La sua sepoltura con i suoi amati cani testimonia il legame speciale che aveva con loro, considerandoli parte della sua famiglia. Alain Delon ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema e della cultura, e la sua sepoltura rispecchia la sua personalità e il suo amore per la natura e per gli animali. La sua ultima volontà sarà rispettata dei suoi cari, che ce li resterà nell'ultimo tutto il Ryan Speck ed è spero che è spenta. Grazie a tutti! Grazie a tutti!